E' dentro? Si si, li trova E' lì? Chi trova? L'ultimo era dal mio lato No no, sempre là Sempre là? Vai dentro? Penso di si Tampante forse Si, forse tampante Cordoghi forse Tampante 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 Questo mi ha pussato un botto Hai visto che va vinto? Non so come va vinto L'ore, sai il mobiletto che c'è in giro? Un'aggradito 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 Allora due coglioni sono di qua Uno in side A Due in side B e uno in side A Oh morto Oryx Morto Ory? Si Morto la camma Arriva Mi sto prendendo uffici eh da sta porta riesci a rompermi sto prisma di merda dove è che è l'ultimo sapete qualcosa sempre ho chi lo fa gen ha detto di aborre che sono non posso però mi ha pushato Kali Kali si è droppato l'ho preso in testa è morto Kali comunque non mi piace a chi? a Kali? mi stava traccata mi flash o no? Kali principali ma dove vogliono andare? mi bano uffici mi bano uffici occhio ad Ash Lion è sotto ping sono in 2 Ash anche c'è sono in 2 sotto sto andando verso custom 0 è custom e l'altro e l'altro non so dov'è dove è? quarta Ivana una era custom amore che se lo so ah arriva scale scale da dove sei sceso tu è sotto scale ma non lo vedo più voglio il defuser voglio il defuser voglio il defuser voglio il defuser pingamelo nini c'hai una trappola dimmi se va il defuser ora 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 eh ma l'oretta citta ma l'oretta no no sei in terra non lo vedi ok ok stanzino 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 back 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 stanzino back dentro lo stanzino back è qua mi ha fatto la capa eh c'è tutti lì eh c'è tutti lì eh prova 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 su la torre io vado io? vado vado madonna uno finestra uno finestra uno finestra uno finestra no finestrina vado di bigliadri non so chi era morto uno ho colpito uno da cervi arriva in cervi uno morto defuser ma cosa è successo? ma cosa è successo? non ho capito finestrina guarda matti finestrina è entrato? un'arco caitolo ancora dentro in garagino io ho finito i droni apro morto mozzi ok mi ha risolto allora c'è uno qua davanti vado a mettere morto castle penso castle arriva 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 sono subito davanti al granaio eh fammi vedere ma si può tornare qua? vado che ti spacchi eh bisognerò per la finestra via no ma no no ve lo apri? tu lo basta? si parto sono fuori te la rompo io c'è da controllare se arriviamo a faremo altre flank aperta finestrina è castellata no non lo so finestrina è di camera? si lo parto io debbie spot non c'è nessuno si può entrare sono rampinato al finestrano io due sono dentro granaglio due dentro granaglio uno è qua si porca uno è in B porto granaglio uno in B si può entrare in granaglio granaglio io sto guardando io sono in granaglio morto B morto B puoi plantare in A dov'è? no aspettando aspettate granaglio ma dove cazzo è arrivato? ma no madonna madonna c'è un drone della madonna da guardarmi no sono lì è granaglio era granaglio un un una è scappata un è rischiappata morto 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 Ah almeno non ci trovo Io sono sopra eh Loro se sarai in bide ti copro io Io ti copro il bridge Quanto? C'è la rotation qua io ti copro Uno è nello stand zero d'ingresso Uno sto coprendo qua Eh non vedo niente SIDE 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 Contro le finestre Ah fai niente Quelle lì sì quelle finestre lì Debor Ero lì contro Ah ah vedo anch'io vedo sopra io Mini c'è sopra E' a sinistra Debor Io sono superdiffuser Sì 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 Ero lì Sì 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 Corridoio 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 dove? Ehm Di fianco a theater Vip woman? Sì Non lo so non ho dronato A te Ma di fianco a theater quindi dall'altro lato Chitarra è pulito Uno dietro B Forse? B Sì 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 Se torna fuori te ammazzo eh Eh ha rotto il po' Se torna invalido è morto Se torna invalido è morto Kaid camera Morte bachiria Scusami sono due fuori Insight dov'è? Ma anche in B e c'è nessuno Ehm Morto un'altro? Va di B Va di B Thorn era Ho anche io trappolo di torno Torne sotto, full vibes Sotto? Full vibes Fate pure Nenek, se no io guardo Ma sono del miliardo eh Beh... Ma si era il miliardo Grazie E' stato a tenerti in angolo tutta la partita Uno in camera Ecco 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 Aspetta E' qua, è qua, è qua Fermo E' fermo ancora, fermo ancora Vai, vai C'è un invalige No ragazzi C'è un invalige? Dove? No ragazzi Ma no Lo è stato Morto valige Morto laser Aspettate 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 Uno è qua Uno è qua Non ho più droni, merda Dove tu hai un mini? Rook e bigliardo Cioè scusami, Rook è prima di bigliardo in acquario E l'altro non ho idea Camera è libera, camera è libera Posso dropparmi? Ehm... penso di si Ho il defuser eh C'è te Non ho droni Vip 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 Lo distraggo Lo distraggo Questo è un sniper Nini se fai giro da valice È morto! Buona Bravi Era distratto? Più o meno, guarda è un po' confuso 5-3 Ho dovuto rubarmi l'nvp a tutti i costi Certo Oh, ha dovuto rubarmi l'nvp a tutti i costi Certo Il nostro cam'…